Giovedì 26 gennaio, Santi, Tito e Timoteo. È il 26esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 339 al termine. Il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 17.08. La luna si leva alle 10.21 e tramonta alle 22.59. A seguito delle lagnanze della popolazione giudecchina si impone al piovego di non proibire agli abitanti di esercitare i loro mestieri e attività sulle rive davanti alle loro abitazioni. Le previsioni per domani. Lieve variabilità con significativi spazi di sereno alternati a modesti addensamenti senza precipitazioni. Per le temperature minime prevarrà una diminuzione anche sensibile sulle zone montane. Le temperature massime sulle zone montane diminuiranno specie in quota, altrove saranno pressoché stazionarie.